Che contentezza! Che giubilo! Chi è il re del bushcraft? Io sono di Bologna a Pennino, ti posso assicurare che anche qui si fa affidamento sulla legna Senza dover ricordare la Scandinavia un tempo, io mi scaldo con quella Stai usando una Felling Axe che è un'ascia da taglio, non da spacco Infatti ha il manico corto e pesa 8 etti Un'ascia da spacco è sempre sopra a un chilo e mezzo Ne ho forse una ventina, tutti i meravigli per un'ascetta La stai usando in ginocchio, che è il modo migliore per darsela su una coscia o ginocchio Scusate, ho il fiatone perché sono il re del bushcraft Hai spaccato un legno in orizzontale, minuto 7 e 30, mai visto Ti meravigli che spacca un tronchetto di faggio Che dopo il castagno è legno di latifoglia più tenero che c'è Prova con la quercia o il carpino Taglio e spacco legna da più di 30 anni Ed è evidente che tu è la prima volta che prendi in mano un'ascia Non ti offendere, ma per dare consigli bisogna avere un po' di pratica Che tu non hai, saluti Rispondo all'ennesimo tizio a caso su internet che mi dà dell'incompetente Non perché mi sia offeso, ci mancherebbe Ma perché penso che in questo commento c'è abbastanza materiale per poter fare delle riflessioni Sull'uso dell'accetta nell'escursionismo e nel camping Che spero possano essere utili a tutti Colgo l'occasione per spiegarvi qual è il mio atteggiamento nei confronti della conoscenza in generale E come si fa, a mio modesto parere, a distinguere una persona veramente esperta Qualunque sia il campo Da una che invece crede solamente di esserlo Se per caso ancora non si fosse capito Voglio mettere in chiaro che io sono un escursionista e un campeggiatore Non faccio il taglialegna di professione Non scaldo la mia casa con la legna Quindi non ho la dimestichezza e la confidenza nell'uso dell'accetta Che può avere una persona che ha a che fare tutti i santi giorni con la legna Questo non significa che io non sappia come utilizzare questa roba qui Correttamente e soprattutto senza farmi male Io mi muovo sempre da solo, cosa che non consiglio di fare a nessuno Se per caso mi do l'accetta su una mano o su un piede C'è il concreto rischio di lasciarci le penne per un'emorragia importante Prima che io possa ricevere una qualsiasi forma di primo soccorso Questo credetemi che è stato un deterrente abbastanza importante Nel farmi andare a documentare su quali fossero le tecniche più corrette per utilizzare l'accetta E che mi spinge ogni volta che sono sul campo ad utilizzarle queste tecniche E a prestare la massima attenzione a quello che faccio Ripeto, non maneggio l'accetta come un professionista Ed è normale non essendo io un professionista Ma ne so abbastanza per procurarmi la legna che mi serve senza farmi male Ora, le tecniche che mostro nei video Ma non le ho mica inventate io Sono tecniche che si trovano sui manuali E che vengono consigliate dagli esperti di vita all'aria aperta di tutto il mondo Vi lascio in descrizione un video dove Ray Meerts Uno dei massimi esponenti del bushcraft e della sopravvivenza a livello mondiale Mostra varie tipologie di accette e spiega come si scelgono e come si utilizzano In quel video lo vedrete lavorare in ginocchio, lo vedrete spaccare tronchetti per orizzontale Lo vedrete fare le cose che secondo questa persona che taglia e spacca legna da più di 30 anni Non vanno bene Ragazzi, non pensate che solo perché fate una cosa da tanto tempo Allora siete arrivati e non ci sia più nulla da imparare su quell'argomento Non pensate che il vostro modo di fare sia l'unico giusto e tutto ciò che è diverso è automaticamente sbagliato, stupido o solamente una moda Il mondo è ampio, è variegato C'è molto altro al di là della bolla delle nostre esperienze personali E questo molto altro va esplorato, va provato, va capito prima di dare qualunque giudizio Altrimenti rimaniamo asserragliati nel nostro piccolo castello di certezze dove il comfort sicuramente è garantito Ma dove il pensiero è limitato Vi racconto questa Qualche mese fa ho discusso con un tizio, anche questo super esperto, guida alpina, vabbè Che sosteneva che gli zaini ultraleggeri fanno schifo Che sono solo una moda Che non vanno bene perché non hanno lo schienale Perché non hanno gli spallacci imbottiti E via discorrendo Io per non saperne leggere né scrivere Gli ho fatto la domanda che mi sembrava più logica Ma tu questi zaini li hai mai provati? Hai mai fatto un trekking con attrezzatura ultraleggera? Perché sai, io mi sono appena fatto 100 km a piedi Con questo zaino sulle spalle E tutti i problemi che dici tu non li ho riscontrati Risposta, no, non li ho mai provati Ma fanno schifo lo stesso perché io ho esperienza Raga, ve lo dico Con questo atteggiamento non andate da nessuna parte Ma non solo nell'outdoor Nella vita proprio Raga, e io passati 30 anni finalmente l'ho capito Abbiate una mente aperta Usate la curiosità Provate tutto Poi se non vi piace passate oltre Ci mancherebbe altro Ma intanto avete aggiunto dei mattoncini Al castello della vostra conoscenza Il vero esperto è colui che si rende conto Che le sue conoscenze Per quanto vaste Sono sempre piccole Se confrontate con tutto quello Che nel mondo c'è ancora da scoprire E che non si può sempre valutare ogni cosa Solamente con il metro delle proprie esperienze personali Uno che ragiona in quel modo lì Secondo me non è un esperto È semplicemente un tizio Che fa le solite quattro cose Da un sacco di tempo Ma torniamo un attimo al commento E andiamo con ordine Allora io sono di Bologna Ok ti posso assicurare Che anche qui si fa affidamento sulla legna Senza dover ricordare la Scandinavia Io ho ricordato la Scandinavia Per il semplice fatto che Mentre giravo quel video lì Mi trovavo in Scandinavia Il fatto di aver detto Che in Danimarca e in Svezia Una volta si scaldavano con la legna Non toglie che anche In molte altre parti del mondo Compresa l'Italia Ci si scalda con la legna Una cosa non esclude l'altra Quindi non ti preoccupare Che nessuno ti vuole sminuire Stai usando la Fellingax Vabbè non è Non è un'ascia da spacco Perché l'ascia da spacco Pesato Tu ne hai una ventina E io invece mi meraviglio Per un'accetta Che ti devo dire Io mi emoziono con le piccole cose Sono d'accordo che l'ascia da spacco Deve essere più pesante Se per questo Deve avere anche Un angolo di taglio Maggiore di questo Deve essere Una specie di cuneo Proprio per penetrare meglio All'interno del legno Se è pure scaricata la batteria Sto a cannone Che mo' se fa buio Il fatto è che io non faccio Il taglialegna di professione Non vado nel bosco Col trattore A caricarmi la legna Per poi portarla a casa Scaricarla davanti alla legnaia E spaccarla Con la mia bella accetta Da un chilo e mezzo Che tengo appesa Nel capanno degli attrezzi Io sono un campeggiatore Che si muove a piedi E che trasporta tutti i propri Averi all'interno Di uno zaino Forse è meglio avere Uno strumento Più versatile Tu che dici Eppure troppo questa Ad ogni modo La Warfot Penso possa essere considerata Un'accetta tutto fare Per lavori boschivi Sul sito della Ulta Forse dice che va bene Anche per lo spacco E io confermo Visto che st'inverno Un po' di legna Ce l'ho spaccata Senza particolari problemi La sto usando in ginocchio Che è il modo migliore Per darsela Su una coscia O su un ginocchio Hai spaccato un legno In orizzontale Al minuto 7.30 Mai visto Tu la forza di gravità L'hai mai vista? Eppure se ti butti Da un palazzo Vai solamente in una direzione Mi metto di profilo Così mi vedi bene Spiegami come faccio A farmi male Lavorando in questo modo Spiegami come faccio A darmi l'accetta Su una coscia O su un ginocchio Con il manico così lungo Se mi scappa Al massimo va sul ceppo O per terra Ma non su di me Non l'hai mai vista Sta tecnica? Tiè Che gli manca? Va A me Sembra efficace E anche sicura Mamma quanto profuma Ti meravigli Che spacca un tronchetto Di faggio Che dopo il castagno È il legno di latifoglia Più tenero che c'è Prova con la guercia O il carpino Io queste cose Giuro che non le capisco Evidentemente È in corso una gara A chi spacca La legna più dura E io non sono stato informato Non è che mi meraviglio Semplicemente Mi diverto Spacco la legna Con l'accetta E sono felice Anche se non è una super legna In questi boschi La quercia E il carpino Non ci sono Utilizzo quello che trovo Detto questo Io il faggio Non lo liquiderei Così facilmente La durezza di un legno Dipende da quanto sono compatte le fibre E quindi in sostanza Dal suo peso specifico Il faggio Ha un peso specifico Di 680 kg Al metro cubo Vi metto Qui Una tabella Ok Non sono I 740 Del cerro Non sono I 750 Del carpino bianco Ma non mi sembra proprio Che sia il legno di latifoglia Più tenero Che c'è Dopo il castagno Non direi proprio Il castagno Sta sui 580 Comunque Su questa tabella Non c'è Taglio spacco legna Da più di 30 anni Ed è evidente Che tu è la prima volta Che prendi in mano un ascia Eccetera eccetera Vabbè Su questo ho già risposto all'inizio Io penso di averla Un po' di pratica Ad ogni modo Le tecniche che utilizzo Come già detto Sono quelle consigliate Ed utilizzate Dagli esperti del settore Quindi se qualcuno Pensa che siano sbagliate Dovrebbe parlarne con loro Piuttosto che con me Ragazzi Spero che questo video Possa avervi acceso Qualche lampadina Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Grazie Per essere stati con me E ci vediamo alla prossima